www.feyyaz.tv Ora andiamo a camminare uniti, senza che facciamo stronzate. Ormai crescio. Avete la mia. La prossima volta si parla in te. Per noi arrivò il momento di chiudere con i due serpenti. Mi dici cosa succede? Cotto merito non già parli. La pagano. Chissà pagano quanto è vero Gesù Cristo lo c'è. È mio. Io mi sento diversa, non sono come voi. La pagano. La pagano. La pagano. Ci sarà anche Stellan Skarsgård in Avengers Age of Ultron. Lo sapevate? Sì, l'ha confermato proprio l'attore, anticipando che riprenderà il ruolo del dottor Erik Selvig. Skarsgård non ha voluto rivelare molto sulla sua partecipazione al film, ma ha detto che ancora una volta sarà senza vestiti, come era già capitato per Thor The Dark World. La release di Avengers Age of Ultron è fissata ad aprile 2015. Per oggi è tutto, ci vediamo presto con altre novità. Ciao a tutti. Grazie.